Nino Castiglia, candidato sindaco per il comune di Massafra, vari i punti del suo programma, ma un aspetto fondamentale è il rilancio e la valorizzazione dell'agricoltura proprio come patrimonio economico, tra virgolette, e bisogna considerare che Massafra è anche una realtà rurale, motivo per cui l'agricoltura è davvero un punto fondamentale. L'agricoltura è un punto fondamentale, però è chiaro che vanno dette le cose così come stanno. Chi governerà questa città non può risolvere i problemi dell'agricoltura, inteso come uno sviluppo omogeneo. Abbiamo un problema molto serio legato al prezzo di vendita del prodotto e ad altri, l'occasione di consorziarsi, di fare brand, di fare squadra, gioco di squadra. L'agricoltura è in crisi anche per un effetto molto serio che è il cambiamento climatico. Probabilmente il sostegno del sindaco che verrà, il sostegno al comparto agricoltura, va dato attraverso i pochi strumenti che abbiamo a disposizione, un Pug che abbiamo approvato di recente in Consiglio Comunale per fortuna, che ritornerà tra poco, mi auguro, approvato definitivamente dalla Regione Puglie e da lì noi ci giochiamo una partita fondamentale. Ecco, quello strumento urbanistico può cambiare le sorti dell'agricoltura, almeno in parte, facendogli un appeal diverso rispetto ad oggi. E significa che lì possiamo pensare, da quel momento, alla trasformazione dei prodotti, al turismo rurale, a quello che può essere il rapporto fra l'agricoltura e la marina più vicina, dunque la nascita di strutture ricettive, dei cosiddetti resort che tutti ormai conosciamo. Ecco, è lì il supporto che va dato all'agricoltura. Naturalmente, migliorare le condizioni della viabilità attorno a questa grande area, un po' depressa anch'essa, dell'agricoltura, siamo qui affacciati in un contesto... La splendida cornice della gravina. Molti, pensate che molti dall'Italia, vengono a fotografare i nostri agrumeti. Dunque questa può essere un'occasione bellissima per far diventare questo strumento naturale un'occasione di sviluppo turistico. Ecco, il Pug è un'occasione unica, la creazione di un brand, che è quello degli agrumi, che sono fra i migliori al mondo, quelli che crescono e nascono in questa zona della provincia di Taranto. Ecco, questi pochi strumenti possiamo noi mettere a disposizione dell'agricoltura, non possiamo cambiare tanto altro, perché bisogna essere onesti e dire agli amici agricoltori, che ne ho tanti, quello che si può fare è quello che invece in campagna elettorale si è costretti a dire.